E' importante esserci per sostenere la ricerca, per portare avanti il lavoro che è stato fatto in questi dieci anni, perché questa è la decima edizione come è stato detto prima in conferenza stampa, quindi tutti uniti e di corsa per sostenere appunto la ricerca e per sostenere la prevenzione contro il tumore. Quindi noi vi aspettiamo in piazza il 5 marzo, ma vi aspettiamo anche al Parco Regionale La Mandria, quindi sul territorio venariese, il 5 marzo al mattino, perché l'anno scorso abbiamo appunto inaugurato il percorso Rosa.